Ciao a tutti ragazzi, io sono Joel e siamo con signor Nicola Il gioco in questione è Shivarim di World Warfare Intanto, 30 secondi restanti alla fine del duello ho letto Ah, ah, va bene, allora diamocele Quindi, perdiamoci ammassate Va bene Oddio, perché sono... Ehi, cosa recuperi vita? Aia! Ah, ah Puoi prendertela, eh? Cos'è successo? Va bene, va bene Il duello comincerà tra... Adesso Ah, tra adesso Attenzione, comincia il duello Allora Comincia il duello Unchia Addio Tantissimo Ma non sei morto? Aia Allora, uno a uno, palla al centro Come dice qualcuno... E testa tagliata E testa tagliata E testa ritagliata Ah, mi hai tagliato pure tu la testa? Sì, mentre eri morto Quindi Cosa molto macabra Si corre Si corre verso l'avversario Intanto io uslo Ma sposta, perché non ho lo scudo? Ah, ok Vuoi stare molto attento Aia Che parata Dichilo ai nostri amici come te le sei buscata la prima volta che abbiamo fatto un duello Eh, la prima volta che abbiamo fatto un duello Non stavamo nemmeno chattando Devo dire la verità Aia 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 No, non è vero Non ti fai male Attenzione Lo so, però fa Fai fatto dirlo, no? No Attenzione No, è inutile che ti recuperi vita Ma Don Io faccio questa cosa Da nabbi Tanto ormai ero morto La testa è scivolata giù Eeeh Mi ha battuto E quindi rivincita Ma Mi vuoi buttare lì sotto, vero? No Non era assolutamente il mio tempo Aia Aia Ma mia sta vittima Olè Aia Non sapevo E l'ho ucciso Non sapevo E tra l'altro questa uccisione è stata fatta in pieno compenetramento E continua la sfida Fight Burriamo Come dei veri vichinghi Ecco la che si urla Con la Con la C Eeeh La brina Oddio Me ne sto buscando Me ne sto buscando Quindi Sia meglio correre Dov'è? Dov'è finito? Ii Ma tu Ti sono arrivato un po' a sorpresa Eeeh No 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 Ti prendo a calci Di cattiveria Di queste tecniche Da vigliacco non si usano Allora Allora Cerchiamo di aggirarlo Cerchiamo di aggirarlo Andiamo di Fare qualcosa Di costruttivo Eppure queste sono tecniche Spammose Queste sono tecniche abbastanza Hammer Quali Le mie o le sue Aia Aia Allora Intanto E appunto Non dovevi dirmelo Ora faccio questo Cos'è che fai? E poi Questo qua Come ti danno i calci? Non sono scordato Con la F La F dov'è? Qua Ok Quindi Aia Aia Oddio No Perché Si è bloccato No Si Madonna Si Allora ragazzi Dobbiamo agire Di strategia E la sua non è strategia Cos'è che ha? E solo Spammare Calci A destra E a manca Con la spera Senti Io me ne sto buscando Va bene E va bene E via il braccio E via la testa Mentre cadevi Sta diventando più aggressivo Il signor Nicola Sta diventando più aggressivo Quindi Si perché sto iniziando a capire Le tecniche di battaglia Col cavaliere Con lo scudo È veramente facile Io direi di premere uno E togliere lo scudo Ah Tu cosa dici? Va bene No Ho scelto l'altro No Oddio Sono una sega Aia La mia testa La mia testa È andata Come sta rotolando A quel paese Possiamo iniziare la battaglia Perfetto Che Chi è sto tizio brutto E Ho una spada Abbastanza avanzata Diciamo Mi sta facendo il culo Però Ecco Attenzione ragazzi Gli anni Gli anni di gameplay Gli anni di Di esperienza In campo Videoludico Si fanno sentire Sempre di più Aspetta Mi si è incriccato il mouse Scusa Era già partita Era già partita prima Te lo giuro Te lo giuro Era già partita Sì va bene Ok Dato che sono in fin di vita Comunque Morirò E Appunto Stavo cercando Di recuperare vita Però Purtroppo Non ce l'ho fatta Allora va bene Vediamo come va Il secondo round Sei sopra le spine Ti eri Buggato Tipo Tipo male Tipo male con le spine Sai Sì Ho visto Ti l'ho visto Aia Perché non si è parato Perché ti ho attaccato Madonna Ma perché Scrivani è troppo piccola Aspetta un attimo Non mi attaccare Che sposto Un attimo La testiera Era già partita La tappa Allora quindi Se questo brevissimo video Perché sarà molto breve Vi è piaciuto Se volete scivare Sul mio canale Se volete Vedermi migliorare Lasciate un mi piace Condividete il video E fate tutte quelle cose belle Allora quindi Per Da Joel è tutto E anche dal signor Nicola E ci vediamo E ci vediamo Al prossimo video Ciao Signore e signori Arrivederci